Si è tenuta ieri in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile, istituita dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa a partire dal 2003, presso la Sala Riunioni Gian Battista Rosa della Questura di Potenza, dove ha avuto luogo un seminario sul tema La competenza della Procura della Repubblica per i minorenni in materia civile, valutazione sull'adeguata informazione dei cittadini e proposte organizzato dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Potenza in collaborazione con la Polizia di Stato e con la partecipazione del SIAP, Segreteria Regionale Basilicata dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani AMI e con l'accredito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza. Obiettivo dell'incontro è stato quello di informare adeguatamente sulla funzione della giurisdizione minorile in ambito civile, nonché fornire ulteriori strumenti conoscitivi alle forze dell'ordine chiamate ad intervenire sempre più frequentemente in situazioni socio-familiari critiche per le quali è necessario attivare idonee procedure rientranti nella competenza civile della Procura organizzatrice dell'evento. Presenti al tavolo dei relatori il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dottor Pietro Canepa, il dirigente della squadra mobile della Questura di Potenza, dottor Carlo Pagano, il comandante del reparto operativo dei Carabinieri, maggior Antonio Milone, il comandante della Polizia Locale di Potenza, dottoressa Maria Carmela Senatore, l'avvocato Maria Giorgio, esperta in diritto minorile di famiglia, la dottoressa Lucia Ruoti, tesoriera e consigliera dell'ordine degli assistenti sociali. Sono intervenuti altresì questori di Potenza, dottor Giuseppe Gualtieri e di Matera dottor Paolo Sirna, destinatari dell'incontro dibattito non solo i rappresentanti delle forze dell'ordine ma anche i magistrati, avvocati e assistenti sociali.